Lasciatemi ricordare, prima di concludere, le parole del Trattato sull'Unione Europea. Articolo 2. L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Articolo 3. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori, contribuisce alla pace, alla sicurezza, alla solidarietà. Articolo 21. L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo. democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di eguaglianza e solidarietà, rispetto dei principi della Carta, delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Vedete, tutto questo è nel Trattato sull'Unione Europea. Essere indifferenti oggi significa, molto più di ieri, tradire le regole che ci siamo dati e i valori cui ci ispiriamo. Grazie. Grazie.